Salve a tutti lupacchiotti, oggi siamo qui per analizzare frame by frame il trailer di GTA 6. È stata un'analisi fatta interamente da me, dove troverete roba che probabilmente non avete notato guardando per una sola volta il trailer, quindi ve lo dico adesso. Se trovate altro che magari non ho detto, fatemi sapere con un commento che magari ci sta che faccio una seconda parte. Quindi iniziamo subito. La prima scena ci presenta la città di Vice City dove è possibile notare degli uccelli, un aereo in lontananza e un centro della polizia delle Acque Refle, e proprio davanti una highway trafficata da molti tipi di macchine, camion, furgoni, bus e persino un rimorchio di una barca. Prossima scena, sempre presenti degli uccelli ed una recinzione con filo spinato da notare che può trattarsi di una prigione perché appunto ci sono ben due recinzioni parallele. Infatti ci viene confermato nella prossima scena dove possiamo vedere la nostra prima protagonista per la prima volta in GTA una protagonista donna. La vediamo per la prima volta in prigione come si può notare anche dall'uniforme arancione e fuori da quella che sembra una porta si possono vedere altri detenuti appunto distinti dall'uniforme arancione. In questa scena invece vediamo lei avere a che fare con una che potrebbe essere una psicologa della prigione ma non viene suggerito molto, si vede soltanto che si trovano a parlare in ufficio. Questa è la primissima scena dove si vedono un sacco di informazioni, innanzitutto uno yacht completamente diverso da quelli che si vedranno e se vedete bene in acqua si possono vedere dei delfini e quello che sembra essere uno squalo o anche può essere una balena, è troppo lontano per essere sicuri. Di nuovo una serie di uccelli e delle persone in acqua e infine una spiaggia densissima di bagnanti e anche un enorme skyline di quella che dovrebbe essere Vice City Beach. Insieme riusciamo a intravedere un aeroplano pubblicitario che dalla silhouette riesce a intuire che è uno di quelli che atterranno nell'acqua, un elicottero all'altezza dei grattacieli e un aereo di linea in sottofondo. Prossima scena molto importante perché si riesce a vedere un grattacielo da vicino dove si possono vedere delle persone che lavorano in ufficio dalle finestre e si può notare anche delle persone in questo enorme terrazzo. Importante perché può rappresentare un'enorme rivoluzione per quanto riguarda l'immersità che c'è dentro i grattacieli che magari non puoi entrarci ma almeno hanno una profondità. Si passa ora alla flora e alla fauna, in questo caso vediamo una palude con degli uccelli in mezzo all'acqua, sta passando un airbot dove quelli che possono essere sopra la barca possono essere dei pescatori o anche dei cacciatori perché si riesce a intravedere di profilo un cucile o quella che potrebbe essere una canna da pesca. Altra scena della fauna, si riescono a vedere dei fenicotteri e altri tipi di uccelli ed una fitta vegetazione. Spero che qualcuno abbia notato quel maledetto alligatore. Rimassiamo alla spiaggia affollata dove si vede di nuovo tante persone che stanno facendo tutte una cosa diversa, dal fare jogging a prendere il sole a camminare a farsi spursare lo spray abbronzante. Dietro si vede uno skyline e un traffico aereo molto presente con tre elicotteri in questa inquadratura e un aereo di linea sopra i cieli. In questa inquadratura si vede quello che sembra essere una gara tra motoscafi vicino al porto di Vice City e in sottofondo si riesce a vedere un ponte e sempre il classico cielo con un aereo di linea. In questa inquadratura si può vedere Vice City di notte con una ragazza su una macchina che si sta sporgendo. In lato possiamo vedere un cartello che è dalla direzione dell'aeroporto di Vice City, a diritto e all'uscita a destra per andare appunto a downtown, anche se qui viene chiamato Stockyard e non invece Vice City Downtown. In sottofondo si trovano sempre dei palazzi, ma se notate bene uno dei palazzi sta facendo uno spettacolo di luci, infatti si vede per pochissimo un flare luminoso, tra l'altro si riesce a vedere un buco all'interno di uno dei grattacieli. Nella prossima inquadratura si possono vedere una serie di macchine custom e anche dei lowrider e tantissime persone sul lato della strada che stanno facendo un meeting o un incontro. In questa inquadratura vediamo uno strip club con delle ragazze che portano lo champagne ed uno spettacolo sul palco insieme a tantissimi soldi. In questa inquadratura si possono vedere due, forse, membri di una gang che si salutano. Qui si vede quello che credo essere il più grande scalene del trailer dove si riesce a intravedere benissimo il casello autostradale o quel che sembra. Uno yacht enorme sulla destra e a sinistra ancora altri yacht tutti diversi l'uno dall'altro, se ci fate caso c'è anche una barca a vela ma senza avere come se fossero state chiuse, si possono notare delle persone nei balconi, un aereo di linea classico nel cielo, insieme un elicottero sulla sinistra. Nella prossima inquadratura si possono vedere una serie di auto sportive nella famosissima Ocean Drive, la via famosissima di Miami Beach. Accanto alla macchina bianca si può vedere un ragazzo che si sta facendo un selfie o sta facendo una foto al palazzo, mentre una serie di macchine li streccano accanto. Si passa ad una festa in una discoteca con luci, ventagli e musica. Nella prossima inquadratura si vede l'aeroplano che atterra sull'acqua, una serie di navi e anche navi cargo che passano sull'acqua e un altro yacht, un dirigibile che forse non avete notato e un'autostrada collegata da isole. Ma accanto all'autostrada potete vedere che c'è un secondo tratto stradale che sembra separato, infatti non si riesce a capire se è in costruzione o se è affatto apposta così. Se avete qualche idea scrivetemi nei commenti. Qui si può vedere l'esempio di prima delle persone che stanno sopra un balcone, come in questo caso quella che sembra essere una festa animata con persone che si rilassano nella piscina, una persona che si beve un cocktail, un ragazzo che guarda il telefono e nell'altra mano ha una bottiglia che sembra essere una birra, la città in sottofondo e un elicottero di passaggio. Qui si vede la scritta Vice, riferimento a Vice City, e c'è una forte presenza di social network dove si vede un uomo di mezza età che si porta sulla barca tantissime ragazze. Il sito ufficiale del controllo animali, penso, della Florida, quindi di Vice City, dove viene intimata l'allerta di controllare sempre la piscina in modo ironico. Una ragazza che twerca sopra un auto in movimento, social network di canali che appunto sono riferiti alla città. Qui si può vedere anche il canale che si chiama Eva Vice Day, ovvero Evanice Day. Buona giornata, è un bel gioco di parole. Si ripassa dai social alla vita in strada dove c'è una specie di gara di drift in mezzo ad un incrocio dove si possono vedere tantissime persone, tantissime auto in un insieme di luci dinamico. Nella prossima scena torniamo nei social network dove si vede una ragazza, probabilmente influencer, che sta facendo una live per i suoi fan. In questa scena si vede per pochissimo un alligatore o un cucodrillo, non so, dipende dai commenti, in realtà non lo so riconoscere, che entra dentro quello che sembra uno Starbucks, ovvero insomma una caffetteria. In quest'altra scena possiamo vedere una retata della polizia e qui ritorniamo sui social dove possiamo vedere il meme del Florida Man. Si riferisce al fatto che ci sono tantissime notizie degli uomini della Florida che fanno una serie di cose assurde. E quindi infatti il canale del social che condivide questo uomo nudo che viene rincorso dalla polizia si chiama Planet Leonida Man. Dovete capire che Leonida sarebbe lo stato della Florida e questo viene suggerito anche nella scena successiva dove si vede un altro video dove nella descrizione c'è scritto che solo a Leonida ci si tocca le palle per scusarsi per aver guidato male. Quindi abbiamo praticamente intuito che Leonida sarebbe lo stato della Florida. Per questo ci sta il meme dell'uomo della Florida. Comunque nella prossima scena possiamo vedere una specie di stuntman o comunque uno stunt pericoloso fatto da probabilmente un influencer. Purtroppo si riesce a vedere solamente la macchina e nessun altro dettaglio perché il cielo è completamente bianco. Giustamente essendo il video amatoriale ci può stare per i social giustamente. Quindi penso che sia fatto apposta e sarà anche stato fatto per non far vedere troppo. Poi si vede un uomo che è intento ad innaffiare il suo giardino ma con un tanga. Si vede una scena di un mud party ovvero una festa dove tutti si coprono di fango dove si possono vedere appunto i monster truck ovvero quelli di GTA San Andreas ma anche quelli di GTA 5 effettivamente. Si passa di nuovo al social dove si vede appunto una tipa strana. Nella prossima scena si vede un ragazzo che si lancia su un tavolo e lo distrugge. Una classica festa americana. Ma dopo vediamo l'inquadratura da dentro una macchina dove ci sono i nostri protagonisti. Dove sono davanti a quello che sembra essere un cartellone dove ci sono gli ingressi per un centro commerciale. Purtroppo c'è i riflessi quindi non si riesce a intravedere benissimo. E un grandissimo cartellone dove c'è un'azienda farmaceutica americana che cura le emozioni ovvero letteralmente degli antidepressivi. Infatti c'è la parodia davanti. Ed è la polizia che sfreccia davanti a loro mentre i nostri protagonisti stanno andando verso l'altra direzione. Infatti si nota come i due protagonisti hanno appena fatto un colpo perché appunto Lucia la vediamo con dei soldi in mano e una bandana come se avessero appena fatto una rapina. Poi troviamo Weasel News che sarebbe anche quella di GTA V ovvero il notiziario di cronaca classico dove si va a vedere una persona che si è ribaltata in autostrada con la polizia che sta attorno e le macchine che deviano la direzione. Sembra essere interessante vediamo se si muovono davvero così perché di solito le macchine tendono ad andare a dritto soprattutto in GTA soprattutto nelle autostrade quindi è bellissimo vedere un rallentamento del traffico e la gente che cerca di deviare appunto. E' un enorme passo verso un'IA più decente all'interno di GTA che è sempre stata quella che va a dritto. Non so se avete inteso il mio riferimento. Poi si può vedere un'altra imitata televisiva ma in questo caso spagnola. Si chiama Mega Noticias che nel trailer mostra anch'essa cronaca. Poi si vedono una serie di motociclisti che passano per il ghetto e di nuovo una notizia di motociclisti che sfrecciano accanto alla polizia che inerme non riesce a fermarli. Passiamo a quello che sembra un membro di una gang che sta registrando un video. Non si sa se è musicale o sponsor. E di nuovo passiamo ai due nostri protagonisti che stanno rapinando un mercatino. Tra l'altro si riesce a intravedere per un istante la Pip Buster che sarebbe la birra che si trova anche in GTA 5. Nella scena successiva si vede la macchina dei due protagonisti e dietro un negozio di armi. Nella successiva si può vedere un momento di intimità tra i due protagonisti dove si riesce a vedere la qualità visiva e di animazione facciale che ha raggiunto dei livelli veramente assurdi. Vediamo un attimo che succede nel futuro come sarà presentato da veramente GTA con un prossimo trailer visto che questo è il trailer 1 quindi sapremo che dovremo vedere altro. E per ultimo passiamo all'ultima scena dove i nostri protagonisti fanno irruzione in un negozio di liquori e fanno una rapina. Questo ragazzi è tutto quello che sono riuscito a trovare. Vi ho fatto vedere tutto quanto il trailer. Ditemi se avete notato qualcosa che mi sono dimenticato perché una parte 2 sinceramente ci sta. Grazie mille a tutti, Luca Chiotti e ci vediamo al prossimo video.